Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori, tra Aglio e Pian del Voglio, verso nord fino alle 14, verso sud fino alle 19. Tra mobilità sempre in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze sud in direzione nord. In Fipili per lavori resta un chilometro di coda, verso Firenze tra Empoli ed Empoli Est, in carreggio d'opposta rallentamenti tra Montelupo ed Empoli Est. Per gli stessi cantieri l'entrata di Empoli Est è chiusa verso Firenze fino al 7 dicembre. Siamo al traffico ferroviario, la circolazione sulla linea La Spezia-Pisa centrale è stata riattivata alle 11.20 a seguito di interruzione per accertamenti dell'autorità giudiziaria. La mobilità ferroviaria è in graduale ripresa. Buon aversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!